Noi oggi non siamo oggi, siamo quasi un po' domani, perché il futuro noi non lo attendiamo, non aspettiamo che arrivi, lo progettiamo, lo costruiamo, lo realizziamo un po' alla volta. Questo è il podcast Inside WMF, il futuro un po' alla volta. Bene, iniziamo quest'altra puntata. Acqua? Acqua. Facciamo un semi brindisi con l'acqua, tu sei tra quelli che non brinda. No, no, brindiamo con l'acqua. Borracce, niente bottiglie d'acqua, borracce, niente plastica. Prosecchi, birra e vino, bevuti tutto in questa giornata. Infatti, io ho già dato il room a te a Cosmano per la prima puntata, quindi ho detto lo lascio sopra. Grazie, grazie. Allora, senti Gabri, il format è facile, ci sono due domande che si chiama quanto ne sai del WMF a quiz e poi c'è le classiche dieci domande con te su varie tematiche che ti riguardano. Parto subito con quanto ne sai del WMF. La prima domanda è in che anno il WMF ha effettuato la prima charity? Attenzione. Le charity le abbiamo avute da quando vi conosco, quindi forse è stato quello con la canzone, non lo so, direi 2017. 2017, tu lo si spara una città. No, no, questo è la... ci dispiace, Gabriele Benedetti lì ha sbagliato da sempre. Allora l'avevo azzeccato. L'avevi azzeccato, poi ti sei... ma la seconda domanda è quella che ti sorprenderà, perché non te lo ricordi secondo me, però vediamo. Verso di chi e se sai cosa c'era in palio nella prima charity che abbiamo realizzato? Non ne ho la minima idea. Aspetta, non è che era con... No, perché quella era sempre quella di... Di appieno respiro. Di appieno respiro che mi viene in mente. Allora te lo dico io, voglio vedere la tua faccia. La Fondazione Veronesi. Ebbene sì. Questa la dovevo sapere. Questa la dovevo sapere. Ma soprattutto in palio c'era la divisa di Emanuele Leggeri, la capitana della prima nazionale italiana che ha vinto la pallabolo. Te la sai la scena? Eravamo al GT Conference a Torino. Ti ricordi che eravamo a Torino? Sì, mi ricordo. Io ero seduto, avevo accanto Chiara Storti e la Leggeri. E io guardo Chiara e gli faccio. Chiara? Mi sa che ci ho seduta accanto la capitana della nazionale di pallabolo. E la Chiara con il suo solito modo cazzo ne fa. Ma chi? La Manu? Me la presenta? Io sono diventato viola come un peperone. Te la pallabolo è una passione. Eh sì. Che bello. Che bello. E il Gabriele che piace a noi. Ecco. Ecco. Senti Gabri, partiamo con le domande. La prima la fa Cosmano. La possiamo ascoltare insieme. Per te il WMF è un progetto lavorativo o un progetto di vita? Una domanda che fa tutti. Una domanda alla quale ognuno può rispondere ovviamente come vuole. Non c'è nessun test. È una domanda libera. Le risposte possono essere brevi. Puoi fare tutto quello che vuoi. Eh beh, è una domanda molto personale. Ecco, io credo di aver sposato una causa, diciamo così. Lavoro in Sercion, prima si chiamava in un altro modo, ormai da un po' di anni. E sono cambiato molto da quando sono entrato in questa azienda, anche grazie al supporto di tutto il team, lavorare con gente, insomma sappiamo di chi stiamo parlando. E in questi anni, specialmente stando a fianco a Quadrella, mi sono reso conto che io non sono un Batman, sono un Robin. Sono molto più bravo ad essere di supporto a qualcuno e a dare completezza, a fare attenzione magari al punto in cui lui non si può concentrare, per migliorare il tutto. E io, in Sercion, credo di essere uno dei tanti Robin, che sposa una causa, che vede che qualcuno ha avuto un'idea che condivide e la sposa in pieno, perché non si nega che facciamo tanti sforzi, ci sono tante cose che, tra virgolette, il lavoro da cartellino, no? Con le ore lavorative standard non ci sono qui, perché devi essere flessibile e ti dà tante soddisfazioni questa parte. Quindi, ecco, la mia risposta è questa. Bella risposta. Senti, qual è stata, sempre per il WMF, la tua notte più lunga? Non metaforicamente. No, no, non metaforicamente sto da me. Perché penso che metaforicamente... Esatto, probabilmente... Eh sì, perché mi ricordo che c'è stato un anno in cui dovevo fare la moderazione, quindi dovevo studiare i relatori. Dovevo preparare il mio intervento, che per come sono fatto io non è mai pronto, neanche dopo che hai finito di parlare, perché ti viene sempre, avrei potuto dire questo, avrei potuto dire quello, questa slide potevo farla meglio, quindi ci lavori sempre finché non devi parlare. E in più c'era la revisione slide, quindi eravamo tutti seduti nella hall, tutti iperconcentrati a ore improbabili, e sì, non dico che abbiamo visto l'alba perché finalmente verso una certa ora siamo andati a dormire, però è stata lunga. È stata la notte che abbiamo fatto le quattro. Eh, può essere, sì. È stata la notte più lunga, anche per me no, perché ho fatto un dritto una volta con Cosmano, però è stata la seconda notte più lunga, sì, me la ricordo. Senti, qual è la cosa che ti ha in questi anni emozionato di più? Allora, sicuramente a pieno respiro, live, pelle d'oca, perché la musica ti entra, poi quella voce arrivava, proprio arrivava. Ci sono stati pochi momenti nel festival in cui ho avuto la lucidità di rendermi conto di cosa stava succedendo, perché ti travolge quando sei lì che ci stai lavorando, è uno tsunami che travolge tutto. Quindi l'emozione reale è stata la canzone a pieno respiro, ascoltata live, sapendo cosa significava quella canzone, sicuramente è stata la cosa più emozionante. Un altro punto che mi ha emozionato tanto è stato in un'occasione, in un festival in cui ho organizzato una sala insieme a Unicef, Save the Children, c'era Emergency, sono di Milano, fanno gli spot qui di Jekyll, si chiamano. A A, 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 Aigell, no, no, scusa, è Aigell, sì, dai, questa va tagliata. No, non va tagliata, sì, per l'adozione a distanza. Esatto, fanno i progetti, ecco là, vabbè, puoi cercare, intanto è concesso l'uso del telefono. In quell'occasione avevo organizzato questa tavola rotonda perché erano i tristi anni in cui qualcuno aveva parlato di taxi del mare e noi ci siamo schierati contro questa diffamazione tremenda. C'era Neri Marco Re che presentava quel tavolo, ho avuto l'opportunità di incontrarlo, pazzesco, cioè sono persone di una statura morale incredibile. E terzo momento la foto con Roberto Saviano e il suo incredibile sorriso, cioè nonostante tutto quello che passa, quando ci sorrideva, io ce l'ho quella foto sul mio Facebook, mi ricordo che è stato un orgoglio mostrarla a mio padre. Ah, cavolo, che bella cosa, che bei ricordi che abbiamo. Cos'era ActionAid? Bravissimo. No, bravissimo Google, basta cercare The Jackal A, è uscito. Esatto, e c'erano anche loro. Bello, quante emozioni che ci sono dentro il WMF. Senti, che cos'è che vorresti al WMF che ancora non c'è? Se c'è qualcosa. Allora, mi piacerebbe poter schioccare le dita, fermare il tempo e girarmelo e godermelo. Perché per quanto ogni anno diciamo, caspita che lungo che sarà, poi quando arriva scappa. E cosa mi piacerebbe? Mi piacerebbe, questa è una chicca forse se qualcuno ascolta podcast, mi piacerebbe incontrare i ragazzi del podcast Bitcoin Italia Podcast, Bip Show. Perché le ascolto hanno una formazione super allineata rispetto alla nostra. C'è un tema di divulgazione, spesso si confonde il tema cryptocurrency con speculazione monetaria. Loro fanno una divulgazione a chi cerca di raccontare l'innovazione sociale che porta. E non li ho mai incontrati, sarebbe bello incontrarli. Invitiamoli. Invitiamoli, sì. Abbiamo anche la sala cripto, quindi ci starebbero. Lo possiamo fare, o quest'anno o l'anno prossimo lo facciamo. Senti, qual è stata la cosa più difficile che hai fatto per il WMF? Ok, parlare in sala anfiteatro al Palacongressi. Cioè, quella sala era più grande del condominio dove abitavo, io mi sentivo una formica e tutte quelle persone mi sono tremate le gambe quando sono salito su quel palco. Ero ancora un giovane pischello alle mie prime presentazioni, parlavo di YouTube a DV che ancora nessuno lo usava. Eravamo in pochi, ma quella sala me la ricordo. Senti, tu hai fatto speaker, moderatore, commissione didattica. Tra queste cose che fai durante il WMF, qual è quella che ti dà più soddisfazione? Allora, la commissione didattica negli anni è stata una grandissima soddisfazione con alcuni speaker. Perché... Spiego per chi non sa di che cosa stiamo parlando. Fondamentalmente, tutte le persone che parlano al WMF fanno un passaggio con la commissione didattica, condividendo il loro materiale. Chiaramente, se sei uno speaker esperto che parla da tutte le parti, eh, noi non è che abbiamo tanto da aggiungere. Magari possiamo verificare che non ci siano hashtag sbagliati, typo nella presentazione. Quindi lì è super superficiale. Ma sul palco, sui palchi del WMF è passata tanta gente che non aveva magari tanta esperienza. E ci sono alcune persone che ho visto crescere, che ho visto maturare come professionisti e come speaker. Alcuni di questi li ho, tra virgolette, seguiti alle prime slide. E si è installato a un rapporto molto bello. Perché all'inizio, soprattutto per i nuovi, c'è un po' di diffidenza. Perché dici, ma caspita, mi chiami a parlare perché sono un professionista e poi me le correggi. Poi quando si accorgono che non c'è uno scontro, ma che è un andare insieme verso un meglio, allora lì si crea sinergia e negli anni poi ho visto appunto queste cose molto molto belle. E non è una grandissima soddisfazione quando dopo che qualche anno hai fatto questo lavoro vedi arrivare la slide l'anno dopo ed è perfetta. Però devo dire che c'è una cosa che mi hai fatto, cioè proprio mi hai traviato tu, che sono diventato, magari bippala questa, però sono diventato un rompicoglione con gli accenti incredibili. Hanno detto di peggio. Cioè adesso quando li vedo, cioè non riesco a passarci sopra. La smetto di dire a tutti, guarda che lei non si scrive apostrofo, ma ce l'hai accentata, ma sono traviato. La vedo ovunque. Ma c'è un motivo serio su questa cosa, perché molte persone pensano che sia una formalità con l'accento al posto dell'apostrofe e viceversa, secondo di che cosa usi. Al di là della questione di significato, cioè una volta che mi sono trovato in autostrada una frase tipo guidare senza cintura è apostrofo pericoloso, può significare anche guida senza cintura e in modo pericoloso, quindi al di là del significato in sé, c'è una motivazione più profonda in questa cosa che non ho mai raccontato, visto che questo è il podcast per la community, è che quando tu stai ascoltando una presentazione, già le slide sono un problema. Solitamente non servirebbero se la persona è veramente molto brava, però sono di supporto visivo quando hai degli esempi che ovviamente non puoi spiegare a voce, ma se tu stai ascoltando qualcosa e c'è qualcosa che ti distrae durante la presentazione, ti cattura l'attenzione. Quella correzione che noi facciamo è un non far pensare alle persone, oh cavolo c'è un errore e li porta via. E' proprio un alzare il livello di attenzione pulendo tutto quello che non è necessario. Quindi è proprio un lavoro di fino, so che... Il problema è che adesso io quando sono per strada e vedo un cartellone pubblicitario vedo lei con la posta e dico ma guarda questi. Guarda, l'altra volta ho mandato una fast letter e c'era, ho sbagliato, ho fatto proprio un lavoro senza accento della E e non mi ricordo per quale motivo mi è successo, perché io faccio sempre il doppio controllo. Rebecca mi ha fatto lo screenshot, me l'ha mandato su WhatsApp senza dirmi niente. Per dirti è una cosa forte. Senti, qual è stata secondo te la campagna che hai gestito, la campagna migliore che hai gestito di ADV per il WMF? Perché tu fai tante cose, ora stiamo raccontando la parte dei speaker, moderazione, ma curi anche le campagne, una parte delle campagne. Queste sinceramente non ti so rispondere. Le curiamo tutte molto, quindi una in particolare per il WMF non c'è. Non c'è, quindi una che ti ha detto, cavolo che risultate che abbiamo fatto con questa cosa? No, perché fa tutto parte di un qualcosa di molto più orchestrato, no? Il mio preciso supporto lì non sono mai riuscito a vedere, ah questo è merito mio. Ci sono altre campagne in cui ho fatto delle cose da circo, però non nel WMF. Ok, ok, chiaro. Domanda numero otto, siamo verso la fine, ce ne sono dieci, ed è questa. Qual è, se c'è, la tua ambizione al WMF? No, non ho ambizione. Non hai ambizione? No, io non sono ambizioso. Ci tengo a che le cose vengano fatte bene. Ok. Mi incavolo da matti con me e con i colleghi quando vedo delle cose che non sono fatte bene. Ma spero che vada tutto bene, che la gente si diverta, come è sempre andato, e sono molto tranquillo su questo. E no, non ho ambizioni. Mi piacerebbe stringere la mano ad alcune persone che ho visto nel programma. Io, nonostante lavori nell'organizzazione, quando ho visto i primi speaker, tipo Gratteri, ho detto, ma veramente? Ecco, l'ambizione di stringere la mano a certe persone che ci sono lì e che mi incrocerò una volta nella vita, questa. Ok. Dirgli grazie. Ok. Domanda numero nove, la fa Cosmano, di nuovo, lo risalutiamo, ce la riascoltiamo insieme. Lavorando alla costruzione del WMF, a quale delle dodici sfide del futuro stai rispondendo? Le dodici sfide del futuro? Hai la colonna! Sono quelle che stiamo iniziando a portare avanti. Nella col, per esempio, per le start-up c'è futuro delle città, futuro dell'ambiente, futuro del pianeta, futuro del marketing, futuro. C'è qualcosa che dici, ok, stiamo contribuendo a questa cosa qui? Allora, il digitale ha dato un'accelerazione a qualsiasi cosa che noi che facciamo questo mestiere lo percepiamo, non è che lo vediamo, lo percepiamo. Chi non lavora in questo mestiere è blind, è completamente all'oscuro delle cose che gli stanno sfrecciando accanto di cui lui non ha assolutamente idea. e nel nostro piccolo cerchiamo di far aprire gli occhi agli altri e portare questa consapevolezza. Guardate che il mondo sta cambiando e non sta cambiando come cambiava una volta in cui uno, tra virgolette, aveva il tempo di adattarsi. Le cose stanno cambiando a una velocità impressionante. Prima citavo il Bitcoin Italia Podcast. Sì. Tutto il mondo delle criptomonete, della blockchain, sta portando delle innovazioni che sono veramente ad un livello che chi non le segue non se ne rende neanche conto. E quando le senti, sembra fantascienza. Ma anche quando vediamo quello che possiamo fare noi con l'advertising, sembra fantascienza. Se racconti quello che fai a persone che non fanno questo mestiere, a volte io mi sento quasi in difficoltà perché ti sembra di essere un extraterrestre. Però è un mondo che c'è, che sta viaggiando veloce e noi contribuiamo a far vedere quello che sta succedendo. Sai che sono sempre un po' modesto nelle cose. Quando ho visto gli slogan che dicevano, che facevano quella citazione rispetto al futuro, io non ho potuto obiettare perché è così. Il futuro è sfaccettato. Nessuno di noi ha il tempo di seguirlo tutto. Però credo che il Festival ti dia l'occasione di dire, a me interessano queste quattro cose, vado a contaminarmi. E quando mi capita di vedere anche video di edizioni passate del Festival e sento delle cose che magari non sono il mio ambito, dico, cacchio, ma quanta roba figa c'è al mondo. Ecco, il Festival ti dà modo di vederle. Il Festival, ci sono tante occasioni, però lì c'è proprio il concentrato. C'è un concentrato di tante cose belle. Se rispondo a Cosmano, penso che stiamo aiutando alla trasformazione digitale. Ok, quindi la sfida, diciamo quella del futuro, è quella orientata al marketing quindi nel digitale. Ok, ovviamente la sfida macro di tutti è il pianeta, comunque sia. Eh vabbè, ne abbiamo uno. Ne abbiamo uno, siamo qui, certo. Sì, ma io pensavo anche a... Cioè ci sono tanti infatti. Pensa per esempio quando per ascoltare la musica e invece che utilizzare una traccia audio guardi la televisione, non lo so, YouTube, per ascoltare la musica. Se ci fosse Greta Thunberg ti verrebbe a dire ma guarda che tu così stai utilizzando nel tuo processore sia la parte audio che la traccia video il tuo televisore stai mettendo un consumo in CO2 per tenere la televisione accesa, per usare lo schermo quando tu vuoi solo ascoltare la musica. C'è tutta una consapevolezza, adesso è chiaro, l'impatto che questa cosa è piccolo, però è enorme e tutto ha impatto sul nostro pianeta e la consapevolezza di cosa ha impatto e cosa no poi uno può anche fregarsene però saperlo è importante. Senti, ultima domanda si ribaltano i ruoli così vi potete riprendere questa cosa che domanda vuoi farmi? Qual è la domanda che mi fai sul WMF? Che domanda ti faccio sul WMF? Allora, eccola qua quando io sono il WMF come ti dicevo prima il WMF mi sfugge tra le dita finisce e dico ma guarda c'era Tizio magari lo vedo nelle foto c'era Caglino tu come fai a trovarti il tempo per stringere le mani nella community che ti viene a incontrare? Come fai a ricavarti il tempo per stare con le persone per essere presente in quel momento lì? Sì, è difficile alcuni anni non sono riuscito alcuni anni mi ricordo il 2019 è stato veramente molto molto pesante diciamo la sera o i giorni dopo mi chiamavano le persone per dirmi Gio non ti ho mai visto così che succede? è stato un anno pesante anche il 2018 comunque sono stati due anni probabilmente mi ricordo che eravamo in Sardegi a un certo punto che ho visto un po' è stato l'anno in cui sia io che Rebecca abbiamo comunque rischiato il collasso due volte eh sì sono successe cose abbastanza difficili da gestire però però ecco durante tutti questi anni sto iniziando a ricavarmi del tempo per fare questa cosa e se c'è un momento in cui mi scarica l'adrenalina io tengo ho tanta tensione dentro ma quando arrivano le 16 le 17 il terzo giorno mi scoppia la vita dentro è come se a un certo punto ho dato così tanto l'ho buttata così fuori da me durante quei giorni durante i mesi prima che a un certo punto mi torna indietro mi succede alla fine del festival e in quel momento ho delle energie pazzesche e sono i momenti di solito dove incomincio a girare come una una trottola per salutare è quel momento là però cerco di farlo anche durante momenti di pranzo momenti magari di di semipausa i momenti del main stage perché quando c'è il main stage io occupandomi di tutto il resto solitamente ora in fiera sarà un casino ho questo tipo di tempo e ho ho delle tempistiche che dedico e quindi vado vado un po' in giro le persone che ci conoscono lo sanno però questa è la cosa in realtà che a me facilita che quando io mi fermo durante una sto correndo sto camminando mi fermo ad uno stand o mi fermo a parlare con una persona quella persona ed è la cosa davvero più incredibile e consapevole che mi sto fermando e non potrei farlo e quindi di conseguenza ha un rapporto davvero molto bello nei miei confronti nessuno mai mi ha dato fastidio e questa penso che sia la dimostrazione della nostra community nessuno mai mi ha ostacolato sì mi ha ostacolato o ha invaso cioè questa cosa insomma che può succedere sai non ti vedi da tanto tempo no? ti vuoi salutare ti vuoi abbracciare vuoi parlare di cose però nessuno mai lo ha fatto credo che abbiamo anche uno sguardo in quei momenti che la gente lo vede come siamo messi probabilmente per pietà no però al di là di questo lo sento che c'è un rapporto speciale con le persone che ci conoscono e quindi lo faccio perché so che ci sono loro altrimenti sarebbe quasi impossibile farlo va bene questa era l'ultima Gabri spero che ti sia piaciuto come esperienza certo non ci resta che augurare a tutte le persone che verranno a Rimini buon festival buon festival questo podcast è stato realizzato dal team di Search On Media Group io sono Giorgio Taverniti la voce narrante di questo podcast la realizzazione tecnica è a cura del team di Ibrida.io con la coordinazione di Roberto Riglia la direzione della fotografia di Davide Natali la regia tecnica di Andrea Dragotta la supervisione del progetto è a cura di Rebecca Veri Grazie a tutti